Siracusa, elezioni, i capi partito fanno il bello e brutto tempo. Elezioni a proposito delle dimissioni del galantomo Bruno Alicata, commissario provinciale di Forza Italia, motivate compiutamente. Vedete, i capi partito fanno il bello e brutto tempo e hanno l'iniziazione a questi misteri, sono fatti per contarvi le frottole dell'uno e dell'altro. Noi per nostra parte abbiamo fino adesso sviscerato il mondo morale in questa martoriata Siracusa governata da un sindaco nominato dal CGA che ha affossato la città e da un manipolo di assessori dipendenti comunali. Ed ecco un piccolo formato, per noi la vera analisi e la giusta proposizione. La storia si tiene qua giù, la letteratura sta alla filosofia come la coda di un toro a quella di un bue. La filosofia politica dei capi politici come quella accaduta in occasione della candidatura a presidente della regione di Stefania Prestigiacomo per far posto a giochi affaristi è una letteratura senza stile, una scelta sacrificata dall'alto per opportunismo politico cinico di posti di governo nazionale accettando su pienamente decisioni dagli alleati. Questa è una letteratura, una filosofia senza idee, l'una e l'altra accolta da palloncini di vento a che patine i campi aerei della fantasia e del declino. A proposito di Aristotele, a quanto pare disse tutto è bello, tutto è brutto, sempre lui è stato a dare il nome di politica all'arte di governare. Siracusa ha perduto una importante occasione che poteva essere la chiave di volta per l'economia del nostro territorio. Insomma, la politica dei capi è una letteratura in azione che raccoglie sempre fischiate.